Secondo me Suma Oro si dovrebbe dimettere per igiene politico, la stessa cosa dovrebbe fare Laura Come, che è stata appena condannata europarlamentare a quattro anni per corruzione di Forza Italia. Io ascoltavo prima il dibattito e credo sempre che vengano fatti dei favori involontari, non solo con lei, al governo. Io sostengo che parlare di Gian Bruno, del libro di Vanna, ci siano tutti assist ad un governo che sta fallendo soprattutto sui pilastri grazie ai quali ha vinto legittimamente le elezioni, cioè la coerenza, l'economia e in particolare il sostegno alla classe media che sta scomparendo e la questione migratoria.